Perché, guardi, come sai, io sono... non mi sottraggo anche a scontri duri e feroci, però devo dire, e mi scusi se lo rivedisco oggi, che il titolo di Repubblica di oggi penso sia una vergogna. Perché va bene tutto, si possono avere idee diverse da noi, ma mettere in prima pagina, cancelliamo Salvini, il leader di un partito di opposizione, il più importante partito italiano... Ma io credo che fosse... è un po' una sintesi, una sintesi, volevano dire cancellare i decreti di sicurezza e quindi le politiche di Salvini. È una furbata, è una furbata abbinare, uno dice cancelliamo i decreti, non cancelliamo Salvini. Se fosse stato fatto da un altro giornale, magari che ho scritto cancelliamo un altro esponente politico, sarebbe stata un'indignazione globale. Che oggi chi ci accusa di diffondere odio, alimenti l'odio con titoli di questo tipo, penso che sia da condannare e da chiedere che Repubblica chieda scusa a Salvini, ma in generale penso alla politica italiana. Prendiamo atto, grazie Federica, io rientro in studio, voglio sentire sul tema Emilia Romagna.